La strumentazione sensibile ai raggi infrarossi di Hubble ci ha permesso di vedere oltre le nubi oscure di gas dove si trovano numerose stelle in formazione e di verificare molte delle teorie sui processi che portano alla nascita di nuove stelle e di nuovi sistemi planetari. La cosa ci riguarda da vicino, infatti molti passi in avanti sono stati compiuti nella conoscenza della nostra stella e del nostro sistema solare. Il nostro sistema solare si è formato circa 4,6 miliardi di anni fa da una gigantesca nube di gas e polvere che pervedeva lo spazio ora occupato dal Sole, dalla Terra e da tutti gli altri pianeti a noi vicini. Ovviamente non è più possibile vedere la nube da cui tutto ha avuto origine, possiamo tuttavia farci un'idea di come avrebbe potuto essere grazie alle immagini inviatici dal telescopio orbitale Hubble, raffiguranti zone del cielo dove si stanno formando nuove stelle. Una devastante esplosione nucleare, causata dalla morte di qualche stella a noi vicina, ha dato il via alla formazione del Sole e del suo sistema planetario. L'immensa forza originata dall'esplosione ha disturbato il precario equilibrio della nube di gas originaria, causando il collasso gravitazionale della materia costituente la nube stessa. La materia, collassando, ha creato al centro la protostella, che sarebbe poi divenuta il Sole e in periferia un gran numero di grumi che si sarebbero poi trasformati nei pianeti di oggi conosciuti. In altri termini, i pianeti si sarebbero formati con quella parte di nube che non è servita al Sole per nascere. I pianeti rocciosi, più resistenti alle alte temperature dovute alla vicinanza del Sole, si sono formati nel sistema solare interno, mentre i grandi pianeti gassosi, per alcuni aspetti ancora enigmatici, si sono formati oltre la fascia degli asteroidi, in zone più fredde dello spazio. A seguito del continuo collasso gravitazionale, il nucleo del Sole divenne sempre più caldo, fino a quando non si innescarono le reazioni nucleari che ancora oggi mantengono stabile la nostra stella. Il sistema solare è nato, con i suoi pianeti rocciosi, con i suoi giganteschi pianeti gassosi e con i mondi ghiacciati dei pianeti lontani. Il telescopio spaziale Hubble ci ha offerto visioni mai viste del nostro sistema solare, ad esempio l'alternarsi delle stagioni su Marte, le aurore boreali australi su Giove e su Saturno, l'impatto della cometa Schumacher-Levy 9 su Giove, avvenuto nel 1994. La Terra potrebbe stare comodamente in ciascuna delle ferite causate da queste collisioni. Nonostante ciò, ancora oggi non si sa esattamente quanta materia faccia parte del nostro sistema solare e quanti siano i pianeti. Dopo la scoperta di Plutone nel 1930, solo il telescopio Hubble ha messo in luce la possibile presenza di un pianeta nano, chiamato Sedna, posto al di là dell'orbita di Plutone. Il pianetino, il cui nome è quello di una dea Inuit del mare, ha diametro di circa 1500 chilometri ed è distante dal Sole cento volte di più della Terra. È un pianeta gelido. Da Sedna il Sole appare meno luminoso che da noi la Luna di notte. Hubble ci ha inoltre permesso di guardare più da vicino altri oggetti residui della formazione del sistema solare, come asteroidi e comete, potenziali minacce anche per la nostra Terra. Nonostante siano ancora molte le sorprese che il sistema solare può riservarci, gli astronomi hanno deciso di puntare lo sguardo di Hubble verso altre stelle, nella speranza di scoprire nuovi pianeti simili alla Terra che potrebbero ospitare forme di vita. Hubble ha compiuto ricerche sull'atmosfera di pianeti extrasolari determinandone in parte la composizione. Misurando le variazioni della composizione dell'atmosfera, sarà un giorno possibile stabilire l'esistenza della vita. Infatti, tutti gli organismi viventi provocano un lento e continuo cambiamento dell'atmosfera dei pianeti su cui vivono. Gli astronomi ormai sono convinti che esistano molti sistemi planetari simili ai nostri, nelle galassie. La nascita, la vita, la morte e la rinascita delle stelle continua di ciclo in ciclo. Le stelle, nate da gas e polvere, brillano per milioni, miliardi di anni, quindi muoiono, ritornando gas e polvere, da cui si formeranno nuove stelle, nuovi pianeti e gli elementi necessari alla vita. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.